Da 40 anni ormai il fuoco del Morrone, la fiaccola che parte dalla badia morronesia sul Mona per arrivare il 23 all'Aquila ed essere consegnata sul piazzale di Collemaggio al sindaco del capoluogo per l'accensione del Tripode della Pace che dà ufficialmente l'avvio alle manifestazioni celestiniane è portato in un avvincente viaggio tra i paesi dell'Aquilano. Ad organizzare questo viaggio affascinante a tappe è il Movimento Celestiniano accanto al Centro Studi. Attraverso le valli Peligna, Sobequana e Aquilana si ripercorre idealmente il viaggio fatto da Pietro Angelerio alla fine di agosto del 1294 per arrivare all'Aquila e vestire i panni di Papa Celestino V nella Basilica alle Collemaggio da lui fatta erigere. In effetti abbiamo incominciato nel 1980 e i primi anni nelle prime edizioni venivamo all'Aquila in una unica soluzione solo in una giornata partivamo da Montemorrone a Insulmona e arrivavamo all'Aquila dopodiché però siccome la cosa prendeva piede tutti i sindaci dei comuni che attraversavamo pretendevano la sede di tappa e così è stato per cui mentre prima arrivavamo in un giorno solo adesso otto giorni per arrivare da Montemorrone all'Aquila. Il fuoco ha toccato Villa Sant'Angelo e San Demetrio con una cerimonia religiosa nel popoloso comune e la firma della famosa pergamena delle perdonanze. La fiaccola passa poi per Sante Usanio e Fossa per raggiungere Onna dove concluderà il percorso di domani. A Onna sarà acceso il tripode della pace nella piazza della chiesa di San Pietro Apostolo recentemente riaperta al culto dopo il terremoto del 2009 che ha distrutto il piccolo borgo. È bello perché si toccano le comunità però si rendono partecipi tutte le comunità delle tre valli su Bequana, Peligna e Aquilana? Sì infatti tutte le tre valli partecipano in maniera impressionante proprio tutti quanti e per fare un esempio a Prato la Peligna quando siamo arrivati qualche sera fa c'erano mille persone, a Castelvecchio su Beco è stato un successo, a Goriano Sicoli, a Casteldieri, a Dacciano, qualsiasi parte è stato un grande successo. Quindi questa cosa sta prendendo piede grazie a chi? Grazie a Florio Panti che oggi non c'è, ha avuto un piccolo problema per cui lui nel 1980 ha avuto questo proponimento, ha fatto questa storia che è incominciata con poche persone e adesso si è allargata coinvolgendo le altre, quindi la cosa è molto buona.